Questo animale volante è un gabbiano che mangia la carta. Il suo nome per il scientifico è l'Arrus Argentatus, dell'ordine dei caratteri formi e della famiglia dei laridi. Mi ha dato il buongiorno. Questo preda pessi e crostacei e anche topolini. Il gabbiano è un nebro. Mi è stato detto che aveva mangiato un piccolo cane, un chihuahua.